La statua del Paron Rocco, portata a braccio in un luogo che è considerato un tempio del calcio padovano. Il candidato sindaco di Torna Padova, Lorenzo Innocenti, omaggia l'allenatore per le eccellenze e presenta così la sua proposta per rivitalizzare lo stadio a piani. Vogliamo la riqualificazione di questo spazio che potrebbe essere per Padova quello che l'arena è per Verona, uno spazio per eventi, per cultura, per musica e poi ci potremmo mettere anche qualche evento sportivo, pensiamo al rugby, che appunto le partite di rugby non creano problemi storicamente di ordine pubblico e quindi anche uno stadio in pieno centro potrebbe funzionare per questo. Un progetto che include tutta l'area vicino allo stadio. Abbiamo in mente poi di stombinare il fiume Alicorno che scorre lungo via 58esimo Fanteria e lì si creerebbe un naviglio, sarebbe una zona bellissima che ridoniamo alla città. Oggi è una zona di transito, è abbandonata, siamo a due passi da Prato e la Valle, può diventare davvero uno spazio importante per Padova.